Laver Cup Laver Cup, Federer e Nadal vincono un doppio storico, querrei, soc battuti Nadal barra Federer, fonte, chiocciola balonesi Redesnx Twitter. Il lato esibizionistico della Laver Cup si fa da parte. Roger Federer e Rafa Nadal uniscono le forze e giocano il primo doppio da compagni e non da avversari Le due punte di diamante del team Europa affrontano Jack Socke e Sam Querrey, con in petto la cocarda del team resto del mondo Lo spartito del match è chiaro sin dalle prime battute e vale per entrambe le fazioni. Il servizio è lago della bilancia, con Socke e Federer che inaugurano bene il proprio viaggio in battuta Molti 15 vengono assorbiti grazie alle volee successive al colpo embrionale. Dopo i primi due game vinti a zero, in risposta si intravedono i primi segnali di match Vengono spediti al mittente un gran passante di Nadal di dritto ed un paio di brillanti volee griffate Federer, mentre il set vede appaiati due team a quota 3 Nel game successivo, primo snodo cruciale, Querrey perde la sensibilità con la rete, diventa goffo ed impacciato, perdendo feeling con il tennis di ricamo Federer, intelligentemente, lo pizzica ripetutamente e l'americano commette errori elementari, compreso quello che regala il break alla premiata coppia. Il set sembra sorridere a quest'ultimi, ma che è da soffrire. Nell'ottavo game, succede di tutto Sock risponde molto bene e tiene egregiamente lo scambio da fondo con Nadal, mentre Federer alterna prodezze, stop volee magica che accarezza il terreno e muore, ad errori, clamoroso liscio a rete, con l'elvetico che manca l'impatto con la pallina I due salgono 30-40, ma vengono trasportati ai vantaggi. Qui conquistano altre tre occasioni, senza riuscire a ricucire lo strappo. Il set scivola via, verso l'Europa Nadal barra Federer, fonte, chiocciola Avengers Twitter. Il secondo parziale è di tutt'altra stoffa. Il resto del mondo prende campo, fiducia e sale per qualità di colpi In particolare, Sock scala le marce e mette in mostra le superbe qualità di doppista. Il nativo di Lincoln cambia i connotati al set nel 4 grado game, dominando da fondo e sotto rete A 15, break, con quel break e sciorina un paio di colpi da fenomeno, compreso un diagonale stretto di dritto I due fenomeni lascia un po' andare la mano, mentre Sock continua nel suo show personale, che prevede, in scaletta, anche una volee controllata da stropicciarsi gli occhi. Arriva il secondo break, che consegna un 6-1 pesante nelle mani degli statunitensi Querei barra Sock fonte, chiocciola Lavercoup Twitter. Il supertee break del terzo set, 10 punti, non ha storia. L'Europa vola subito sul doppio mini-break grazie ad un doppio fallo di Sock I due protagonisti vanno sotto 8-1, recuperano un mini-break, ma prestano il fianco con il punteggio di 10-5 Sock 641-6-10-5